Benvenuti alla puntata di oggi in cui parleremo dei test che facciamo nello studio Nutrilab. L'abbiamo già anticipato nella puntata precedente dove effettivamente facciamo tanti test, abbiamo detto pure test all'avanguardia, io inizierei a parlare proprio dei test strumentali perché sono diversi e il più importante è l'esame bioimpedenziometrico. Che cos'è l'impedenziometro? Qui dobbiamo capirci perché ancora molte persone vengono qui e dicono, dottore ma voi non mi pesate? Sì, la bilancia l'abbiamo, lo pesiamo, però la bilancia che cosa mi dà? La bilancia mi dà semplicemente un numero che non riesco io a distinguere se si tratta di grasso, di muscolo, di acqua. Quindi mi dà una sommatoria di queste 3 cose. Invece l'impedenziometria attraverso uno strumento che non è abbastanza costoso pure, viene fatta passare una corrente elettrica a basso voltaggio al paziente e vengono calcolati due vettori, la resistenza e la reattanza. Attraverso questi due vettori, quindi calcolo l'impedenza, quindi c'è il software che mi calcola l'impedenza e mi dà praticamente 3 importanti valori che sono quelli che ho citato prima. Mi dice quanto grasso c'è il paziente, quanto muscolo c'è il paziente, quanto acqua c'è il paziente. Questo mi permette di fare bene, nel senso che il vero dimagrimento, lo ripetiamo e lo sottolineiamo più volte, il vero dimagrimento è la perdita di massa grassa e aumento della massa muscolare. Perché a volte nelle varie diete che abbiamo anche detto nelle puntate precedenti, in tante puntate, quando abbiamo parlato di poca caloricità e tutto il resto, abbiamo detto che a volte si perde peso, ma non si sa che cosa si perde, a volte si perde muscolo. Quindi là non si può parlare di dimagrimento, ma si deve parlare di diaperimento, quindi il vero dimagrimento è questo. Andiamo ad altri esami, esami dal punto di vista metabolico, abbiamo sia la calorimetria indiretta, che è il calcolo del metabolismo basale, ovvero quell'energia che serve agli organi principali, quindi cuore, reni e fegato, a muoversi, a funzionare. E quindi già è un dato importante, per arrivare secondo me allo strumento più importante che è l'alter metabolico, ovvero un potente sensore che viene posto al braccio del paziente, lo lasciamo per due giorni e in questo caso fa una registrazione, mi registra due giorni in particolare, lo posso tenere anche più, posso decidere anche di tenerlo per più giorni. Mi dà tutto il dispendio energetico totale, quindi da lì faccio le dovute considerazioni, poi addirittura c'è questo strumento, la possibilità di valutare anche, siccome lo tengo anche di notte, l'efficienza del sonno. Quindi è ovvio che se trovo delle persone che dormono male, poco, tendono ad ingrassare, perché ormai è netto, ci sono studi recenti anche che parlano del metabolismo e sonno, della netta connessione. Chi dorme male ha un metabolismo più rallentato, ovviamente se trovo dei dati più bassi li mando a fare una polisonnografia, quindi per approfondire. Poi abbiamo come esame sempre strumentale, l'adipometro che è un ecografo, un vero e proprio ecografo che mi dice, mi stratifica il grasso ed è questo che sostituisce un po' quello che è l'adexa, è uno strumento molto costoso, questa è un'ecografia che viene fatta e mi dice quanto grasso superficiale o profondo abbiamo nelle varie zone del corpo. Questo è importante per dire che un paziente può avere molto grasso viscerale, quindi è un soggetto a rischio, mentre un soggetto può avere molto grasso sottocutaneo e poco grasso viscerale, quindi in questo caso ci possiamo preoccupare di meno. Test genetici, test le indoleranze alimentari, test il mineralogramma, per la tossicità abbiamo detto che purtroppo la terra dei fuochi non è solo in Campania, come spesso è detto anche in tante trasmissioni televisive, ma purtroppo viviamo in una terra inquinata, quindi il mineralogramma ci dà delle grosse indicazioni, come l'esame dello stress ossidativo, quindi misurare i radicali liberi e misurare la barriera antiossidante, produco tanti radicali, però se ho una buona barriera antiossidante, allora tutto va bene. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti!